Una nomina di pochi giorni fa, ma una nomina che comunque in continuità adesso ti dà maggiori responsabilità. Ormai è un po' di tempo che sto aiutando attivamente l'associazione per organizzare qualche evento, quindi insomma mi è stato chiesto di entrare nel direttivo in modo un po' più consistente, come figura proprio più rappresentativa. Quindi io ho accettato e tentiamo, facciamo una prova. Beh, non credo che ci possa essere un rammarico in questo, perché quando si dà in genere si riceve sotto altra forma. Sì, sicuramente questa è la cosa più bella del volontariato, quello che ho imparato di più stando qui, che si dona ma si riceve anche tanto e forse è il motivo per cui ho deciso anche di fermarmi, diciamo, e di rimanere in questa associazione. Africa, cosa vuol dire per te? Africa vuol dire tante cose, l'ho scoperto di più nel viaggio che ho fatto proprio a Rumoruti, sicuramente vuol dire tanta consapevolezza di quello che è molto diverso da noi, che è difficile capendolo stando qua, questo sì, è molto difficile. Però Africa è anche tanto cuore, forse per questo anche il nome è molto azzeccato, perché proprio in una cosa che è lontana e distante bisogna crederci tanto affinché possa avere un esito positivo e funzionare. E poi a darti un po' di luce c'è Vanna che è un po' la madre di tutte le volontarie e i volontari. Assolutamente, io conoscevo Vanna anche prima ma l'ho conosciuta meglio in questo contesto e lei è molto del cuore di Africa nel cuore, perché è presente tanto e perché dà anche molta ispirazione a chi entra per fare queste iniziative e per metterci molto di se stessi. Adesso siamo un po' più liberi, come si suol dire dopo il Covid, siamo un po' più liberi, quindi anche le vostre iniziative possono riprendere con maggior fiato. Assolutamente sì, abbiamo cercato anche nel periodo del Covid di fare comunque le iniziative tradizionali, classiche, soprattutto quelle dell'uovo che ormai sono tanti anni che facciamo e abbiamo ripreso di più quelle che sono le iniziative tipo le cene solidali, abbiamo anche introdotto nuovi eventi, qualche spettacolo, qualche cena un po' più diversa dal solito e abbiamo anche ripreso vecchie iniziative come Muoviti con noi che stiamo cercando di ampliare e rinnovare, anche perché l'idea è cercare di non svecchiare l'associazione perché non è mai stata particolarmente vecchia, però magari coinvolgere di più i giovani, quindi cercare anche per questo mi è stato chiesto di entrare per parte del direttivo, come un altro membro che è Chiara, perché siamo un po' più giovani, quindi cercare di andare anche a aprirsi verso quelle che sono le nuove generazioni, anche con esempio attività come le officine della solidarietà a cui continuiamo a partecipare, che sono nelle scuole, quindi l'idea è un po' questa, cercare di andare anche più incontro a quello che sarà il futuro per poter continuare con tutte le iniziative adesso che possiamo farlo.